Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qua per il secondo vlog bene, ho deciso di aprire questo vlog principalmente per un motivo ma intanto colgo l'occasione per aggiornarvi su alcune novità del mio canale il motivo principale che mi ha mosso a fare questo vlog è perché oggi ho letto che qui nella mia città ad Asti ci sarà il nome congresso magico di Asti veramente un evento incredibile dal 29 novembre al 1 dicembre, ecco mi sono scritto tutto, me lo sono stampato ospiti davvero eccezionali da Roberto Giobbi a Aurelio Paviato che presenterà suo nuovo libro sul manoscritto di Asti che è un manoscritto che parla di magia che è stato ritrovato qui ad Asti ha scritto un libro, Aurelio Paviato e parlerà proprio di questo e poi anche da non perdere il 30 novembre alle 21 il gran gala di Close Up internazionale con il presentatore Diego Allegri veramente persona eccezionale e poi con grandissimi ospiti ci sarà anche la fiera magica internazionale e tantissime altre iniziative quindi per tutte le informazioni andate su clan52.com che è il forum di sezione Aurea e lì troverete tutte le informazioni e c'è anche lo sconto tra l'altro per i membri del clan bene, andiamo al prossimo annuncio il prossimo annuncio riguarda la pagina Facebook sì, infatti ho deciso di fare la pagina Facebook che in realtà l'avevo già creata a suo tempo ma l'avevo smesso di aggiornarla non avevo più postato niente l'altra settimana mi è venuto in mente di riguardarla e adesso ho deciso di tenerla di nuovo sempre aggiornata quindi se volete seguire tutti i miei movimenti mi raccomando lasciate un like alla mia pagina Facebook per non perdervi mai nulla delle mie attività bene, seguitemi anche su Google Plus mi raccomando perché come sapete con il nuovo YouTube è stato sincronizzato Google Plus e YouTube ora andiamo avanti con il terzo annuncio il terzo annuncio riguarda la frequenza dei video allora è iniziata la scuola, è iniziata per tutti quindi c'è meno tempo per fare video tuttavia cercherò di caricare un video ogni sabato avete già visto che da qualche settimana carico un video ogni sabato di solito alle 3 di pomeriggio quindi se riesco un video ogni settimana vi arriverà comunque quindi di sabato la quarta novità riguarda il logo in realtà l'ho già cambiato da due settimane comunque questo è il nuovo logo spero vi piaccia, a me piace abbastanza e ultima notizia ma non meno importante il contest allora vi avevo scritto nella descrizione di un video che il contest sarebbe arrivato ai 150 in realtà poi ho deciso di aspettare di arrivare a 200 fino ai 200 iscritti arriverà un fantastico contest quindi mi raccomando iscrivetevi appena arriviamo ai 200 si apre il contest bene questo era quello che dovevo dire vi mi raccomando partecipate numerosi al nono congresso di Sam & San eh si di Sam & San di nono congresso di Asti scusate nono congresso di Asti mi raccomando partecipate numerosi io ci sarò vi aspetto